La Chiesa di San Francesco ha il completo per l'edizione 2023 della giornata delle professioni. Centinaia gli studenti degli istituti superiori della provincia che hanno partecipato all'evento dal titolo La responsabilità e il valore delle professioni nella società che cambia, organizzato dal Comitato delle professioni ordinistiche. 14 gli ordini coinvolti, dottori, agronomi e forestali, periti agrari, avvocati, architetti, commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, farmacisti, geologi, geometri, medici, ingegneri, notai, periti industriali e veterinari. Dopo l'incontro con i ragazzi, i professionisti hanno seguito l'alexio del professore Pietro Ichino dal titolo Il valore dell'indipendenza, ruolo e peculiarità del lavoro autonomo nell'era dell'intelligenza artificiale e dell'automazione. La giornata è ormai un appuntamento annuale per la città e rappresenta un momento di riflessione e confronto tra le diverse professioni con il mondo istituzionale e politico, con l'obiettivo di sviluppare strategie comuni e trasversali e sensibilizzare i vari enti a tutti i livelli sulla necessità sempre più impellente di coinvolgere le professioni ordinistiche nei processi di crescita e di sviluppo della società. Il tenere insieme tutte le professioni ordinistiche che si muovono insieme per dare risposta ai problemi che le varie categorie affrontano non è una cosa comune, quindi dobbiamo essere orgogliosi come ducchesi in questa cosa e lo siamo.